Adesso voglio sentire Nunzia, perché poi quest'ondata di maltempo colpisce molte regioni, anche al Sud. E la gente del Sud dice, ma noi, noi con ragioni, non è che siamo gente che subisce di serie B di cui non si parla. Il tema ne discutevamo oggi io e te telefonicamente. C'è un tema che il Sud e il Nord sono la stessa cosa, siamo tutta Italia. C'è una parte di popolazione del Sud, sia presidenti di regioni che persone normali sui social, che ovviamente si lamentano del fatto che, come sempre, l'emergenza viene trattata in maniera diversa fra Nord e Sud. E Alessandro, non è una questione di Greta, di Trump. Noi dovremmo disturbare il buonsenso e il senso di responsabilità nell'amministrare la cosa pubblica. Siamo il paese del giorno dopo. Noi dovremmo essere il paese del giorno prima, e cioè che fa bonifiche, controlli, prevenzioni. Ma devi sapere perché arrivano le ondate di piena sempre più spesso, se non studi la questione climatica. E sì, ma poi c'è l'immose, come diceva il direttore Feltri, che è uno dei tanti temi di infrastrutture che in Italia sono incomplete. Sono incomplete a danno degli italiani, anche delle tasse che pagano gli italiani. Grazie a tutti.